Ben trovati da Nikos Chiodetto, una tendenza per i primi giorni del nuovo mese di febbraio quando l'alta pressione questa volta cederà sui colpi sempre di queste correnti nordatlantiche che proseguirà anche nei prossimi giorni di fatti il flusso molto veloce e umido di rapide perturbazioni dall'oceano atlantico verso sud-est e verso l'Europa centro-orientale con momenti anche freddi per la discesa di aria polare marittima verso il vecchio continente per quanto riguarda l'Italia abbiamo previsto proprio con i primi giorni di febbraio una zona di bassa pressione che arreccherà qualche precipitazione soprattutto al centro nord e fiocchi di neve sull'area alpina, probabilmente poi però subito dopo ritornerà l'alta pressione da ovest dalla Spagna che nei prossimi giorni terrà spesso i suoi massimi tra il Marocco e la penisola iberica e tagli maggiori approfondimenti li trovate come sempre scaricando l'app di Trevi Meteo